Le storie più belle, gli attimi irripetibili, i momenti più vivi, le immagini indimenticabili. Vedi le subito, tra poco, tra un'ora. Kodak Express, la qualità in un'ora. Kodak Fan, può fare foto di notte? Sì, c'è Kodak Fan Flash. Già pronta per mettere in luce tutte le vostre qualità. Kodak Fan Flash, la luce in scatola.